La stazione è in pari centrale, per rispetto dell'ordinanza numero 214 del 2020 del Presidente della Regione Puglia, tutti gli aviatori rientrati in Puglia hanno tra i loro doveri l'obbligo di compitare al proprio medico di medicina generale, con il portale della Regione Puglia, di costitare un periodo di isolamento di 14 giorni. Sono 869 le persone arrivate in Puglia nel primo giorno della fase 2, da quando cioè sono stati consentiti, seppur con delle limitazioni, gli spostamenti sull'intero territorio nazionale, dopo i divieti imposti dalle misure anticoronavirus. Lo fa sapere la Regione rendendo noto il numero di modelli di autosegnalazione online compilati dai pugliesi rientrati nelle ultime 24 ore, un dato che ovviamente è in continuo aggiornamento. L'obbligo di comunicare l'arrivo in Puglia è scattato a seguito di un'ordinanza firmata dal Governatore Michele Emiliano, che impone l'isolamento fiduciario, per un periodo non inferiore ai 14 giorni, a chiunque faccia rientro nella Regione per soggiornare continuativamente nel proprio domicilio, abitazione o residenza. La segnalazione può avvenire o attraverso la compilazione di un modulo sul portale della Regione, oppure avvertendo il proprio medico curante o l'operatore della sanità pubblica. Il provvedimento ricalca quello già provato dal Presidente Emiliano nella primissima fase dell'emergenza, quando poche ore prima delle entrate in vigore del primo decreto ministeriale, che limitava gli spostamenti per evitare la diffusione dell'epidemia, centinaia di persone presero d'assalto dalle stazioni del nord, come quella di Milano Garibaldi, i treni diretti al sud, nella notte tra il 7 e l'8 marzo. L'ordinanza, che obbligava la quarantena a chiunque rientrasse nella Regione, fu la prima di questo genere ad essere approvata a livello nazionale. Un atto coraggioso che ha certamente salvato la Puglia da un'esplosione incontrollata di contagi, così come l'attuale ordinanza vuole prevenire i rischi di una nuova diffusione del virus. Lo ha ricordato lo stesso governatore Emiliano attraverso un video postato sulla sua pagina Facebook e con il quale ha lanciato un messaggio ai pugliesi che in queste ore stanno tornando a casa. Lo so, è pesante farsi 14 giorni di quarantena dopo essere rimasti due mesi al nord. E voi siete stati quelli bravi, quelli che sono rimasti su per non danneggiare nonni, fratellini, genitori. Insomma, per non far danno alla Puglia. Io volevo dirvi grazie e grazie anche di questa ulteriore attesa che farete in casa, mi raccomando, possibilmente in camera e distanziate dai vostri cari, utilizzando un bagno autonomo se potete e soprattutto avendo tanta tanta pazienza. Queste ordinanze di quarantena hanno salvato la Puglia, come avrete capito. E quindi noi pensiamo che anche questa volta questo provvedimento sia stato necessario.